La situazione è che da circa una settimana non c'è riscaldamento in tutto il condominio. Da una settimana 12 piani e 70 appartamenti del Palazzo Stiore e in Piazzale Pistoia sono senza riscaldamento. La rabbia è tanta, almeno per i due terzi degli inquilini, anziani e famiglie con bambini, chiusi in casa in zona rossa, che pagano regolarmente tutte le spese e si trovano loro malgrado al freddo. Di notte le temperature in casa sono insopportabili, raggiungono anche i due gradi. Ci arrangiamo come possiamo, io ho degli scaldini che scaldo. Senza gas, per colpa della morosità fuori controllo, qui in tanti, per varie ragioni, non pagano i servizi. Spese condominiali e riscaldamento centralizzato, ma anche le spese per l'ascensore e di manutenzione del palazzo. L'elenco di debitori è numeroso fra i condomini, chi deve sborsare anche 27 mila euro, chi 21 mila o 16 mila, solo per dare un'idea. Morosi che in alcuni casi non pagano da oltre dieci anni. Facile capire che con cifre simili il debito negli anni si sia gonfiato oltre i 200 mila euro. Io ho sollecitato anche questo all'amministratore di essere un poco più tutelati dall'ente che fornisce questa fornitura, di trovare degli accordi. Proprio il nuovo amministratore Alessandro Meo, che dal novembre scorso ha preso in mano la situazione, è riuscito a ridurre il debito in pochi mesi a 164 mila euro. Ma non basta, i grandi creditori come l'azienda che fornisce gas e luce, che da solo avanza a 40 mila euro, ha deciso di chiudere i rubinetti. A fronte di un debito iniziale di 50 mila euro sono riuscito a rientrare in pochi mesi, due o tre mesi, di circa 30 mila euro. Ultimamente sono arrivate altre fatture per altri 20 mila euro, ma non ritengo che questo possa giustificare il fatto di far rimanere al freddo più di 70 famiglie. L'amministratore chiede quindi una proroga. Non è facile far pagare chi è proprietario di un appartamento magari in protesto, ma Meo è fiducioso e tanti inquilini credono che lui sia l'unico in grado di cambiare la situazione. Io ce l'ho la possibilità di mettere le cose a posto. Mi serve solo un po' di tempo, qualche mese.